Il treno regionale veloce 24-57 di Trenitalia, proveniente da Triosti Centrale, segnale di Trenitalia, numero 15-25, in arrivo a binario 6. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce 24-57 di Trenitalia, proveniente da Triosti Centrale, segnale di Trenitalia, numero 15-25, in arrivo a binario 6. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Pernavoiano Veneto, Venezia Mestre. Trenitalia, treviso, stazione di Trenitalia. Trenitalia, treviso. Il treno regionale 11-04-2, Trenitalia, preveste da Venezia-Santa Lucia, alle ore 15-25, in arrivo a binario 6-24. Trenitalia, preveste da Venezia, 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 preveste da Venezia